Deve cercare di giocare, di dare quello che ha sempre dato. Nella processa della partita, con un gioco propositivo, insomma, con quello che abbiamo cercato di fare sempre, a volte ci riesce, a volte com'è altro. Normale che abbiamo voglia di tornare alla luttografica, di conseguenza per farlo bisogna curare tutto, in minimo particolare, insomma. Abbiamo una squadra in una sconfitta, dove abbiamo fatto una partita ottima, perché l'ho vista attentamente, quindi dobbiamo scegliere di essere bravi a limitare, nel loro conto di giocare, giocatori più di qualità, nella fase di non posso sempre proporre il nostro, ma che siamo in possesso.